ovviamente proveremo a dire qualcosa il mio dire non potrà essere altro che un balbettare perché ovviamente stiamo parlando di una tradizione spirituale antichissima sacra molto antica appunto ma che esiste e si tratta fino ai nostri giorni cercherò di dire qualcosa zippando al massimo e eventualmente poi lasciando spazio alle persone che ci stanno seguendo in questo momento di poter dire la loro fare domande se hanno curiosità dubbi o quant'altro quando si parla di zocene si parla di una tradizione spirituale connessa diciamo in gran parte alla tibet ed è una tradizione che esiste simultaneamente all'interno di due grandi religioni il buddismo e all'interno del buddismo in particolare lo zocene è diffuso nella cosiddetta scuola degli antichi quindi nella scuola nima e all'interno della tradizione invece pre buddista tibetana che è la religione bern noi come casa editrice come tu hai giustamente detto cerchiamo in italia soprattutto di diffondere di tradurre testi sacri insegnamenti che riguardano lo zocene della tradizione bern perché è molto poco conosciuto è fantastico perché c'è non solo nel mondo ma anche in italia oramai da da molti anni e direi anche all'inizio grazie proprio al al grande prodigarsi di nam kai nor bui in poi c'è un interesse in italia che sta aumentando quindi mi sembrava giusto alle persone che sono interessate alle persone che sono interessate soprattutto anche alla pratica concreta dello zocene di fornire dei piccoli testi che fossero dei contributi che permettono di conoscere in maniera diretta quindi testi sacri di questa tradizione quando si dice zocene si dice insegnamenti che riguardano la mente come avviene nel buddismo e come avviene all'interno della filosofia a bompo ma sono degli insegnamenti molto particolari che riguardano la mente allora tanto per cominciare diciamo che nella tradizione bern che la tradizione pre buddista del tibet lo zocene viene considerato il pinnacolo degli insegnamenti quindi sono degli insegnamenti sacri che soprattutto nel passato e anche direi fino a un'epoca molto recente erano trasmessi una parolona che però spesso da motivo a di fraintendimenti potremmo dire in maniera esoterica ma non significa niente significa tutto e non significa niente una volta che applichiamo questi termini soprattutto ai contesti asiatici esoterica nel senso che erano degli insegnamenti talmente elevati riservati che erano destinati a praticanti che avevano delle qualifiche particolari e non è un caso quindi che gli insegnamenti zocene che nella tradizione bern ma anche nella tradizione buddista sono come si dice pensati e ritenuti avere origine direttamente dalla dimensione illuminata quindi dalla sorgente di tutto ciò che esiste sono poi discesi dalla dimensione illuminata nella dimensione terrestre e per lungo tempo non solo sono stati tramandati attraverso dei maestri illuminati dei buddha è come il caso appunto dello zocena nella tradizione bompo dallo stesso buddha fondatore della tradizione bompo che ton pasherab ma dopo questi esseri illuminati sono stati tramandati si dice attraverso un lignaggio unico nel senso che esisteva già la religione bern ma gli insegnamenti zocen erano trasmessi da un maestro a un singolo discepolo il quale a sua volta una volta che aveva realizzato completamente questi insegnamenti li tramandava a un singolo discepolo e così è stato per centinaia e centinaia di anni questo punto si chiama il lignaggio unico immaginate proprio come una goccia unica che cade dentro un maestro dentro un adepto l'adepto realizza e una volta che è pieno di realizzazione trabocca una goccia e viene tramandata a un suo discepolo in epoca relativamente recente quindi grosso modo nell'ottavo secolo dopo cristo con questo fantastico maestro che era un un sida quindi un grande eremita che è tapirizza gli insegnamenti sono stati prima eh trascritti dall'altica lingua della della religione bern che è la lingua dello shanshung in tibetano ma al tempo stesso da questa epoca in poi gli insegnamenti zocen sono trasmessi a più individui in una sorta di cascata infinita che è arrivata al giorno d'oggi dove anche noi diciamo poveri eh grandi peccatori e poveri mortali abbiamo però il privilegio di attingere a questi insegnamenti che hanno un'origine antichissima che ripeto sono tradizionalmente connessi con la religione scusate con la dimensione ultima e prima della realtà e che vengono quindi tramandati in questa in questa maniera eh cosa possiamo dire eh il punto fondamentale lo diciamo in parte prima quando si parla di zocene di buddismo di bern c'è sempre la nozione di mente noi lavoriamo sulla nostra mente e lavoriamo sulla nostra mente in maniera molto molto diretta molto esperienziale secondo me la cosa stupenda dello zocene ma in generale dell'approccio buddista è quello che non viene richiesta in in principio una fede eh è un metodo sperimentale eh è un metodo che si fonda sull'osservazione non sull'osservazione esterna ma sull'osservazione di noi stessi e in particolare di quello che è il germe di noi stessi cioè la mente nella tradizione zocene si dice che se noi osserviamo la nostra mente al di là del dell'aspetto concettuale cioè della mente che noi utilizziamo tutti i giorni la mente che elabora che analizza che ricorda che si proietta nel futuro che si inceppa talvolta nei suoi nel suo estremo lavoro io soprattutto nell'epoca attuale all'idea di questa mente concettuale esiste un altro aspetto della mente un aspetto più profondo cosa interessante ognuno di noi può sperimentare questo aspetto più profondo che appunto nella tradizione bern e tradizione zocene viene chiamato natura della mente quindi esiste una mente che è la mente ordinaria quindi ripeto la mente che noi usiamo in questo momento e io stesso sto utilizzando per elaborare i pensieri che poi traduco in parole ma al di là di questa stessa mente esiste una natura della mente che invece non è una mente concettuale che non è una mente che analizza che non è una mente per forza legata a un individuo chiamato martino nicoletti o pinco pallino ma che rappresenta la sorgente stessa della mente e rappresenta la nostra natura illuminata allora la cosa splendida secondo me questo è il grande il grande regalo che veramente ha fatto ha fatto il buddismo la religione bern e all'umanità è la nozione di vacuità la quale nozione vacuità noi occidentali ci siamo arrivati faticando faticando negli ultimi tempi cioè noi qualcosa di analogo alla vacuità lo abbiamo con la fisica quantistica lo abbiamo in questi ponti creati bellissimi come il tau della fisica le opere di capra eccetera che permettono di capire come anche la nostra fisica negli ultimi anni dopo che è stata sgretolata la grande fisica di base newtoniana ha cominciato a capire che probabilmente l'universo non è fatto esattamente come l'abbiamo sempre concepito dove c'è un fisso osservatore che osserva una fissa anche se dinamicamente in movimento realtà il buddismo ci insegna che questa dicotomia di soggetto oggetto non esiste e non esiste semplicemente perché se noi andiamo ad analizzare quello che pensiamo essere il soggetto non lo troviamo e arriviamo adesso ne parleremo in che maniera sperimentale e molto meticolosa il buddismo il burn fanno questo scopriamo che in realtà non esiste un soggetto non esiste un oggetto e questo viene fatto semplicemente per scomposizione per cui se andiamo a togliere troviamo una realtà che appunto nel buddismo viene chiamata vacuità che è la dimensione naturale delle cose al di là di ogni possibile concettualizzazione e di ogni possibile approccio dualistico alla realtà allora quando si pensa alla vacuità adesso sto entrando in argomenti perdonate perché da una parte vado con l'accetta d'altra parte sto facendo un po come tarzan nel senso mi devo attaccare a dagli dentellati un po difficoltosi per mantenere il filo del discorso quando noi parliamo di di vacuità spesso grazie ai nostri filosofi occidentali di vacuità buddista intendo dire hanno detto ah che brutta questa filosofia buddista vacuità è una filosofia nichilista perché i buddhisti predicano il nulla poi non so quale sia il nulla forse quello di schopenhauer forse quello un nulla paranoico di niche e delle sue necessità di ampliarsi all'infinito non saprei non è così il concetto di vacuità che appunto in sanscrito è legato a sunia e sunia in sanscrito significa anche numero zero quindi non è una negazione dei numeri sunia ciò che sta prima dei numeri quindi sunia ciò che sta prima delle cose che si manifestano ebbene questa vacuità non è un vuoto non è un buco non è un nulla non è un'assenza ma è semplicemente lo stato naturale di tutto ciò che esiste quando noi togliamo le concettualizzazioni quindi quando la realtà finalmente può essere quello che è però la realtà quando è quello che è non ha più questa dicotomia tra soggetto e oggetto quindi questo è il grande regalo secondo me appunto fatto dal dal buddisto dal buddismo in generale all'umanità ma soprattutto a noi occidentali così abbiamo finalmente la capacità e la possibilità una volta per tutte di fare piazza pulita con questa ossessione di questa opposizione permanente tra me e l'altro tra me e ciò che non è me e così via dicendo quando si parla di mente ritorno un po indietro ho fatto questa questa digressione ma aveva un senso quando parliamo di mente nell'ambito dello zocen e parliamo di mente di questa natura della mente che questo aspetto illuminato che sta al di là della mente concettuale che è dentro di noi lo zocen dice quello è l'aspetto vuoto della mente in quel momento noi sperimentiamo la vacuità cioè sperimentiamo la realtà esattamente così com'è senza che ci sia l'orpello della nostra presenza e della nostra visione dualistica questa dimensione della realtà non duale ha un aspetto molto particolare che nello zocen viene chiamato chiarezza cioè la vacuità ha una consapevolezza quindi tutto ciò che esiste non è solo indefinibile ma è anche consapevole e non solo è consapevole quindi tutto ciò che esiste in noi stessi e noi stessi al di là della nostra mente concettuale siamo solo vacuità consapevole ma anche una caratteristica questa consapevolezza che è dotata di energia e questo è la cosa fantastica della pratica azocena poi ne parleremo perché io ovviamente non sono non faccio proselitismo non mi interessa poi nessuna di queste dottrine funziona sulla base di un proselitismo però ovviamente è una cosa che a me crea particolarmente fervore mi dà gioia mi dà entusiasmo perché vacuità e chiarezza i due elementi appunto caratterizzanti la realtà ultima delle cose e della nostra mente sono dati di energia quindi questa vacuità emana e produce all'infinito quindi crea forma all'infinito crea mondi all'infinito e la cosa bella che nello zocen e nel termine buddista che viene utilizzato per energia tuge tuge significa non solo energia ma anche compassione per cui la cosa bellissima è che questo universo che abbiamo in noi nel momento in cui si manifesta grazie a questa sua consapevolezza piena di energia è un espandersi pieno d'amore non solo pieno d'amore quindi quello che esiste si manifesta per amore ma è anche un amore che nel momento in cui si manifesta offre a qualsiasi essere che è toccato da questa tuge da questa compassione di avere gli strumenti per ritornare alla consapevolezza originaria cioè come direbbero appunto i buddhisti di risvegliarsi comprendendo che sono gli esseri senzienti sono immersi nel samsara e quindi attraverso questa compassione e l'opera compassionevole che viene praticata dai buddha hanno modo di ritornare di risvegliarsi e quindi di ritrovare la loro stessa natura illuminata che è presente all'interno di ciascuno di noi tante cose ho cercato appunto di zippare concetto fondamentale quando quando parliamo di zocen ricordiamoci insegnamenti che vengono attribuiti alla all'origine stessa delle cose alla mente illuminata stessa quella che in tibetano viene chiamato kuntu zampo quindi il l'infinitamente buono quindi la mente illuminata nella sua condizione originaria vengono trasmesse attraverso dei lignaggi ininterrotti che esistono fino ad oggi e poi ne parleremo oggi cos'è la tradizione zocen bompo e cos'è la tradizione zocen bompo in italia cosa vorrebbe in italia tra l'altro diventare importante ricordarsi questa dicotomia questa doppio aspetto esiste una mente concettuale ma esiste anche una natura della mente che la nostra natura fondamentale illuminata presente in ogni essere sensiente dal piccolo insetto fino al buddha più elevato stessa mente cambiano semplicemente gli aspetti esteriori o i modi di manifestarsi ma le qualità illuminate sono presenti in ogni essere sensiente questo è l'altro aspetto quando parliamo di mente illuminata è importante ricordarsi questi aspetti esiste un aspetto di vacuità che quindi è l'intangibilità e la impossibilità di definire con dei mezzi concettuali la nostra esperienza ciò che siamo e ciò che intorno a noi che non deve essere inteso come qualcosa di terrificante oddio dove mi trovo dal momento che non esisto più poi anche questo magari lo spiegheremo cosa è il non dualismo in queste in questa tradizione zocen vacuità chiarezza il che significa quindi consapevolezza ma è una consapevolezza piena di energia quindi manifesta in maniera incessante da sempre non smetterà mai di farlo e lo fa in una modalità per cui questa energia è un'energia di compassione quindi man mano che espande da anche gli strumenti a coloro che sono prigionieri del samsara di ritornare alla consapevolezza originale una cosa secondo me importante perché appunto entrare dentro lo zocen secondo me è un viaggio fantastico anche perché è una tradizione parlo dello zocen ma in generale parlo della tradizione burn quindi della religione all'interno della quale i lignaggi zocen si sono sviluppati sono stati tramandati e ancora oggi sono sono praticati dico che è fantastico perché uno trova tutto trova più o meno tantissime risposte ai quesiti fondamentali che ci possiamo porre soprattutto quando questi quesiti ce li poniamo in maniera sincera e non cerchiamo semplicemente di avere la risposta già prima di fare la domanda quello che volevo dire che nella tradizione zocen noi possiamo entrare affascinarci lasciarsi sedurre dalla potenza di questa pratica attraverso due modi secondo me lo zocen la tradizione burn il buddismo in generale lo dicevo prima sono delle tradizioni molto concrete e buddha aveva buddha sacchiamuni parlo il buddha storico fondatore del buddismo storico è uno che ha rifiutato aveva maestri ma non 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 era più d'accordo con quello che all'epoca era detto ed era praticato e quindi a un certo punto si è messo da solo in meditazione e in maniera esperienziale lui stesso ha trovato gli strumenti per illuminarsi quindi c'è un rapporto molto diretto lo dicevo e buddha stesso lo dice insomma cioè lo zen soprattutto lo dice quando dice se incontrate un buddha uccidetelo nel senso la buddhità è un è una esperienza che ognuno di noi deve ricercare con i propri strumenti all'interno di sé e in maniera esperienziale quindi c'è un rapporto molto diretto con la realtà ed essendo un rapporto molto diretto con la realtà ed essendo degli insegnamenti che devono realmente in maniera rapida farci capire in che mondo stiamo e come uscirne da questo mondo lo zocen parte e lo vedremo domani mattina perché ci sono dei punti fondamentali che sono chiamate le porte del dharma attraverso cui si entra nel nel cammino sono molto semplici uno renditi conto che sta vivendo qualcosa di estremamente prezioso la vita è preziosa due i fenomeni sono impermanenti non ti attaccare a niente perché constata tu solo non è non è teoria è esperienza guarda un giorno una cosa c'è il giorno dopo scompare una cosa che oggi non c'è domani appare quindi tutto è eternamente in movimento quindi questo nostro questa nostra malattia permanente di solidificare le cose per rassicurarci perché quando poi sono solide le coccoliamo e ci lasciamo coccolare da queste cose possiamo dare forza al nostro ego non esiste tutto è impermanente quindi già l'impermanenza è un modo per scoprire la vacuità delle cose come tutto ciò che vediamo in realtà non ha una forma stabilita il karma il fatto che l'esistenza che noi viviamo è purtroppo connessa alla sofferenza volenti o nolenti soprattutto quando siamo un po più in là con l'età vediamo che quando mettiamo sul piatto della bilancia i doni della vita le cose fantastiche invece le pene della vita beh c'è uno squilibrio quindi la vita se lo osserviamo bene è sofferenza e ciò che genera sofferenza spesso è l'attaccamento ai fenomeni l'attaccamento al corpo l'attaccamento all'io eccetera eccetera quindi è molto pragmatico ci dà una scrollata dice vuoi vedere le cose le cose stanno così ed adesso in avanti se ti interessa cammina e vengono dati degli strumenti di pratica non solo gli insegnamenti teorici e filosofici ma degli strumenti concreti di pratica perché noi possiamo ricordarci ciò che eravamo e ritornare ad essere ciò che eravamo prima che cadessimo nell'illusione questo è un modo è il cammino tradizionale che tutti i maestri da migliaia di anni più o meno utilizzano sistematicamente per far sì che un adepto che una persona diciamo comincia ad aprire gli occhi e poi eventualmente decida di incamminarsi nel sentiero della pratica per alla fine ottenere realizzare quindi la condizione di puntità ma c'è anche un altro modo che secondo me è fantastico cioè già solo quello per me è sorgente di gioia di entusiasmo mi dà sicurezza in tutto quello che faccio diciamo prima nella condizione ultima delle cose che è la condizione della vacuità i fenomeni non sono definibili cioè questa telecamera davanti a me non è una telecamera nella condizione assoluta della realtà anche martino che parla non c'è un martino che parla c'è un qualcuno che pensa che esista un martino che parla nello zocene viene detto che quindi nella dimensione assoluta della realtà ancora prima che i fenomeni si manifestassero esisteva soltanto vacuità consapevolezza ed energia ma come vi dicevo questa energia ha una capacità spontanea di manifestare e all'inizio si manifesta attraverso tre modi che noi ritroviamo identici nello zocene bompo come nello zocene buddhisti si manifesta attraverso delle modalità chiamiamole energetiche ma è un termine brutto perché ringraziando gli adepti della new age è stato talmente abusato che è pericoloso usare il termine energia ma sono qualità energetica in realtà della mente illuminata che sono suoni luci e raggi i raggi soprattutto sono forme geometrico forma in generale quindi la mente illuminata la sorgente di tutte le cose poi spiegheremo meglio che differenza c'è fra eventualmente la mia mente illuminata la mente illuminata di un buddha esiste una mente illuminata al di là di me e dei buddha sì o no questo semmai lo preciseremo e sarebbe bello se vi interessa ma approfondirlo con le vostre domande questi suoni che riempiono l'universo queste luci che riempiono l'universo queste forme che si propagano ovunque nell'universo rimangono tali fin tanto che la nostra mente le percepisce in questa condizione se noi cominciamo invece a identificare queste cose o questa è una luce di colore bianco questa è una luce di colore rosso questo è un triangolo cosa succede questo universo illuminato totalmente dinamico comincia piano piano a coagularsi a solidificarsi il problema è che nel momento in cui si solidifica o se quello quindi è rosso io non sono il rosso nasce la prima dualità che viene chiamata appunto nello docenza nello sociale maricpa quindi la prima ignoranza fondamentale se c'è una distinzione tra un me che viene a formarsi e delle forme esterne che cominciano a manifestarsi man mano che questo processo di ignoranza va avanti cosa accade accade che quei colori questo intreccio di colori di forme di suoni si solidifica ancora di più diventano forme e pian piano diventano gli oggetti che abbiamo intorno a noi per cui noi viviamo in un universo che si è solidificato e noi stessi ci siamo solidificati perché ci siamo identificati e abbiamo cominciato ad identificare per ignoranza ciò che è semplicemente una manifestazione spontanea della nostra natura illuminata in oggetti dividendo quindi gli oggetti separati da me c'è una colonna c'è un martino e poi per di più seconda livello di ignoranza la colonna mi piace non mi piace lui mi sta simpatico non mi sta simpatico quindi non solo il dualismo di soggetto oggetto ma anche il dualismo con degli attributi che fanno sì che noi nascano quelle che vengono chiamate le emozioni negative e questo diciamo incastro questa cascata che man mano che poi discesa si è si è solidificata questo è il samsara che viviamo e lo zocen ci insegna e tutte le pratiche zocen mirano a questo riconosci cioè riconosci che quello che tu stai percependo non è legato a una tua percezione egoica che tutto ciò che tu pensi che in questo momento è un tuo amico non è un tuo amico e non è manco un tuo nemico quindi pian piano ci aiuta a far sì che questo denso intreccio ritorni a liberarsi ritorni a essere quello che è sempre stato e che continua ad essere lo è anche in questo momento ma siccome noi siamo immersi in questa ignoranza non riusciamo a vederlo ed è per questo che e poi chiudo e vi lascio a voi le domande perché ho fatto un po una zippata forse sono stato anche un po troppo rapido e veloce spero di avere comunque articolato abbastanza gli argomenti ed è per questo che lo zocen a differenza di altri cammini di liberazione proprio perché la natura illuminata e vacuità e chiarezza ed energia il frutto ultimo della realizzazione quindi la buddità piena nello zocen viene definito con il termine di corpo di arcobalena cosa significa significa che ritorniamo al giochino di cui abbiamo parlato prima se è la mia ignoranza che ha solidificato il mondo attorno a me e me stesso e se è la conoscenza della mia natura profonda quell'elemento che mi aiuta a riaprire questo intreccio fitto è normale è spontaneo che nel momento in cui io ottengo la realizzazione più alta il mio corpo scompare ma non perché scompare perché viene trasmutato alchemicamente attraverso un'opera di sublimazione di separazione dei misti in cui il mercurio alchemico agisce con lo zolfo no non è questo lo zocen è un processo spontaneo semplicemente perché noi abbiamo la consapevolezza che ritorniamo ad essere quello che siamo sempre stati consapevolezza vuota che emana energia e da quel momento in poi la persona che si realizza spontaneamente senza che lo desideri o senza che sia un'aspirazione personale visto che non c'è più un ego diventa un buddha quindi questa energia che diciamo è un energia di compassione immediatamente la persona che si illumina non può che mettersi al servizio degli altri e così si chiudono i giochi ed è per questo che in lo zocen tutti tutti i rappresentanti dei lignaggi almeno parlo di uno dei lignaggi che è lo shang shun yin jiu che uno dei lignaggi principali di pratica dello zocen fino a un certo periodo tutti hanno non solo ottenuto la realizzazione somma della buddhità ma anche il corpo di arcobaleno corpo di arcobaleno che come come risultato della realizzazione non è qualcosa che appartiene appunto al passato o al mondo dei grandi realizzati sia ovviamente dei grandi realizzati ma è qualcosa che riguarda anche il nostro mondo tant'è vero che nella tradizione non solo buddista ma anche bompo ci sono maestri che hanno ottenuto il corpo d'arcobaleno intorno agli anni trenti e anche in anni più tardi e non sono soltanto i grandi lama dei monasteri ci sono storie racconti di pastori tibetani che nella loro ignoranza apparentemente ignorante per la gente erano dei grandissimi praticanti e degli grandissimi eruditi interiormente pastori che hanno raggiunto il corpo d'arcobaleno spontaneamente quindi è una realizzazione che ancora è portata di mano il bello che esisteva nel passato esiste ancora ad oggi e la cosa stupenda è che questa e questi insegnamenti sono a portata di mano adesso sembra che sto facendo marketing ma perdonate io un uomo di passione quindi le cose che mi piacciono lo dicono che non mi piacciono ugualmente lo dico di questa di questa tradizione sono personalmente innamorato quindi è normale che e il bello è che tutto questo è a portata di mano e tutto questo nel nostro piccolo con la casa entrice con tante altre piccole attività è quello che stiamo cercando di fare di fare in modo che i maestri arrivano in italia che nonostante i lockdown e le peripezie a cui siamo quotidianamente eh sottoposti come come vittime sacrificali di un mondo assurdo eh nonostante questo possano venire lama a insegnare in Italia possa essere mantenuta questa tradizione e quindi lavoriamo tutti affinché questi splendidi insegnamenti che sono durati e sono mantenuti intatti per quasi ventimila anni così dice almeno la tradizione bompo possano ancora oggi essere tra noi manifestati e soprattutto sapendo che sono ancora attivi anche perché come diceva eh Cesare all'inizio il grande detentore di lignaggio che è è vivente eh non solo un grandissimo erudito e non è solo una delle persone che in pratica ha salvato la tradizione bompo eh dalla dalla totale eclissi eh a seguito del dell'occupazione cinese del Tibet ma è anche un grandissimo realizzato e quindi ha ha formato a suo modo dei dei lama altamente qualificati e noi abbiamo la fortuna ancora di toccare questa tradizione di praticarla di condividere per me è un'enorme fortuna una grandissimo privilegio poterne parlare e potermi emozionare parlandone a voi grazie grazie